ciao a tutti bentornati sul mio canale bentornati in questo nuovo video oggi vi faccio vedere un trucco con cat cat una delle applicazioni gratuite free sia per android sia per ios con cui fare dell'editing video iniziamo allora innanzitutto apriamo anzi prima di aprire la nostra applicazione prima di aprire la nostra applicazione vediamo un attimino cosa dovete fare dovete innanzitutto registrare un video registrate un video eccolo qua adesso lo vediamo insieme in questo video voi dovete far lanciare in alto un oggetto in questo caso un pupazzo aspettare che cada schioccare le dita e fare un balletto ed ecco che abbiamo fatto il nostro video vediamo cosa possiamo fare con questo video usciamo dall'applicazione e apriamo appunto cap cat quindi andiamo in video e apriamo cap cap io il progetto l'ho già fatto ma lo vediamo di base come funziona apriamo nuovo progetto e quindi andiamo a prendere il video che abbiamo appena girato non è questo scusate eccolo qua andiamo a prendere questo video quindi a lo aggiungiamo controlliamo che sia il video giusto certo al video giusto vedete che mi nascono poi arrivo perfetto allora abbiamo salvato il progetto lo riapriamo bene adesso clicchiamo su overlay anzi portate pazienza andiamo all'inizio del video clicchiamo su overlay e aggiungiamo di nuovo il video già importato così da verne di averlo uno sopra e uno sotto lo stesso video bene adesso lo allarghiamo per andare a coprire l'interesse del video che abbiamo sotto perfetto adesso selezioniamo il video sopra andiamo fino al punto in cui lanciamo l'oggetto in aria lì a questo punto cerchiamo l'opzione l'ultima opzione dovrebbe essere vediamo a destra eccola qua che è frizz ed ecco che lei ci dà tre secondi di frizz portiamo il video fino allo schiocco delle dita perfetto dovremmo già essere perfetti in questa maniera andiamo in fondo e tagliamo il video e tagliamo il video della stessa lunghezza quindi tagliamo il video sopra e cancelliamo l'ultimo pezzo diamo un'occhiata al nostro risultato bene bene adesso selezioniamo il video sotto andiamo all'altezza dell'oggetto in altro e selezioniamo anche mask selezionato max mask selezioniamo la prima opzione split e aspettate che vado un attimo più avanti qua split una volta fatto split noi questa linea che vedete la giriamo in questa maniera poi la spostiamo anche un pochino portate pazienza devo cercare di no ma voglio ruotare ancora un po perfetto circa qua ci siamo quasi è benissimo ancora qua bene vediamo perfetto quindi ok vediamo il risultato che abbiamo ottenuto perfetto eccolo lì quindi adesso andiamo a vedere il nostro video dall'inizio facciamo iniziare da qua e vediamo il risultato del nostro video vai vedete che lanciamo l'oggetto per aria schiocco delle dita e l'oggetto cade balletto perfetto ed ecco che il nostro trucco è terminato per questo trucco con cap cat è tutto ovviamente lo stesso trucco si può farlo anche con videolip e con altre applicazioni per montaggio video per questo video è tutto se avete domande scrivetemi nei commenti mi raccomando aiutatemi crescere sul canale su youtube mettete un bel like video iscrivetevi al canale ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti da ermanno ciao 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 ciao